Forza ragazzi! Svizzera e Germania, Svizzera in terza, Germania in quinta, che ha ottimi talenti. Sono da controllare con attenzione. Noi che guardiamo, i ragazzi cercheranno semplicemente di andare il più forte possibile. Matteo Melluzzo davanti il Greco, un relativo punto di riferimento. Sembra essersi messo bene in moto. E' il cambio. Jacobs che vola! Attenzione agli olandesi dietro. Jacobs patta, ottimo! Italia, Paesi Bassi all'interno Germania. Patta, Lorenzo patta. Ed è il miglior cambio della storia per Filippo Tortu. Che qui si riscatta, si arrabbia, si riscatta e va a vincerla con un favoloso 37-83. Poi Paesi Bassi in Germania. Ma la medaglia d'oro è di un'Italia, trascinata da tutti e quattro con un momento di liberazione per Filippo Tortu. 37-82. Nessuno in Europa ha queste cifre. E c'è chi gradisce e applaude. Paesi Bassi 38-46. Germania 38-52. C'è! Sono andati tutti forti. 10-45 Melluzzo. 8-98 Jacobs. 9-34. Perfatta. E adesso arriva anche l'ultimo.